Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo ancora dalla 1 dove a causa del traffico congestionato si registrano 5 km di coda tra Valdarno e Incisaregello in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico. Rallentamenti invece tra Incisaregello e Firenze in Pruneta. Rallentamenti infine a causa del traffico intenso anche tra Aglio e il Bivio con la variante del Valico in direzione Roma. Passiamo sulla FIPILI dove a causa di materiali dispersi si segnala un chilometro di coda tra Ponte del Est e Ponte del Ovest e Ponsacco in direzione Livorno. In direzione Firenze invece rallentamenti a causa di lavori tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!